Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Spacchettamento di Shane Ti faccio vedere Allora, questo è arrivato l'altra volta E l'ho già aperto E non misurato, ma comunque ve lo farò vedere lo stesso Ed è un top Sono tutti top, credo Non me lo faccio neanche C'è questo toppettino Che non è proprio il mio stile in realtà Però, però carino Ora ve lo faccio vedere Ok, questo è Ovviamente non con queste pretelle sotto Sono registrano qua E in realtà scome non c'è mai neanche registrano Così qua le trocce è elastico Si aggancia e faccia tutti gli accetti Vedete che questo non dovrebbe andarci Ok, questo è il mio tocchetto che in realtà l'ho già provato In anche prima Ora vediamo quattro Allora, il prossimo Ah, è fatto così, nero E c'ha l'intreccio qua dietro Con la testa così Ora lo proviamo Questo anche Che richiederebbe Di non avere il reggiseno Però è molto bello Molto carino Sto con dei pantaloni un po' decenti Non questi con la decatur Potrebbe essere anche mezzo elegante E la pizzica davanti Che tessuto di me Ok, anche questo non lo richiederebbe Un reggiseno Ma questo è proprio Urla Chiara Me Mi vedo quest'estate In miei vacanze Con questo topettino Con il cuore Tessuto stupendo Stupendo Non è cotone Secondo me Ma ci si avvicina Molto meglio di quello di prima E poi vi voglio far vedere Intanto Questi Che ho preso Che ovviamente non metterò da soli Quindi ve li faccio vedere Ma che pensavo di mettere sotto i vestiti In realtà Anche se vi dico che ho trovato Questo affare qua Che veramente non trovo Questo affare qui Con il quale mi sto trovando bene Quindi per adesso Questi non li utilizzerò Però la taglia è sicuramente Quella giusta Ecco E E poi Ho preso Ho preso anche Altri top Ancora due Mi sembra Però vi voglio farvi vedere Intanto questo Ho preso Un portachiavi Sobrio Perché io Mi scorcio Quindi perdere le chiavi Nella borsa Ho fatto le pulissime I portachiavi Conti puzza Mamma mia E quindi dovevo Prendermi un portachiavi Sobrio Adatto a me Questo anche Cioè Ne vogliamo parlare I wanna talk about me Questo è bello argo Tessuto carino E E qua ci si possono mettere Registrini In realtà Tranquilamente Ma non questo che è spessissimo Ma un registro sottile Si può mettere tranquillamente Top Mi sa che c'è ancora Un top Adesso Poi Infine c'è questo Che è un po' corto Perché poi Torna C'è questo Ecco Così Non tornerò su sicuramente E Questo non mi piace No questo va proprio così Più basso E Ti va a stare Per il mio foglio Ok E nulla Questi Erano i miei acquisti Su Shane Ora Il prossimo pacco Che arriverà di Shane Sarà un pacco A parte In realtà Che Non credo Che vedrete Perché Sarà tipo L'outfit Del mio compleanno E quindi Ve lo farò vedere direttamente Al mio compleanno Che è tra Un mese E una settimana E L'undi agosto Bene Questo era il mio video di Shane Ciao